Il Veneto è in zona gialla e ci rimarrà. I dati dell'emergenza coronavirus nella nostra regione continuano a disegnare una curva in discesa e lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Sono dati assolutamente che ci confermeranno la zona gialla per capirsi perché prudentemente è giusto sempre avere un minimo di cautela visto considerato che stiamo parlando di una classificazione che ci verrà data da un ente terzo e quindi è tutto superiore alla sanità. C'è preoccupazione per le varianti che circolano in Italia alzando il livello dell'emergenza in alcune regioni tanto che Zaia lancia un appello ai Veneti. L'appello ormai che diventa quasi un refrain che è quello di non abbassare la guardia per i cittadini, di continuare a rispettare le regole e anche perché insomma voglio ricordare che noi qualche ricovero lo facciamo sempre. Su tutto grava la spada di Damocle della disponibilità vaccinale che dipende dalle forniture da parte dei produttori. L'Europa ha firmato un contratto con le ditte produttrici, la prima in assoluto è stata Pfizer, poi è arrivata AstraZeneca, è arrivata Moderna e poi in ultima istanza AstraZeneca. Un contratto che da quello che è dato a sapere è un contratto d'ombrello a favore poi di una distribuzione a rispetto agli stati membri. Dove da quello che è dato a sapere l'unica fonte di fornitura, l'unico canale di fornitura del vaccino avviene attraverso questo contratto europeo rispetto agli stati membri. Quindi qual è quella risposta che diamo alla signora? Che il problema non è pagarsi il vaccino, ma il problema è avere il vaccino.